La ex Tiberina Trebis, viabilità alternativa alla E45, è tornata in mano alla provincia di Arezzo. La strada divenne drammaticamente nota quando il viadotto Puleto lungo la E45 venne sequestrato dalla procura Aretina per problemi di sicurezza. L'arteria, in condizioni precarie per anni di incuria e rimpalli di responsabilità di fatto, è l'unica strada alternativa alla E45, declassata nel 1997 a strada comunale, nel tratto compreso tra l'uscita a Pieve-Santo Stefano Nord della E45 e il confine con l'Emilia-Romagna, di fatto era stata dimenticata. Questa mattina, nella sala consigliare del comune di Pieve-Santo Stefano, un importante protocollo è stato siglato tra la presidente Silvia Chiasai-Martini e il sindaco Claudio Marcelli. Un impegno importante e propedeutico alla presa in carico delle strade da parte della provincia di Arezzo, ma anche di portata storica per le avviabilità della Valtiberina e di tutto il centro Italia. Nell'incontro che ho richiesto al Ministero e Danas, ho manifestato la disponibilità a questa operazione, chiedendo collaborazione per la progettazione degli interventi e i fondi per le opere, ha detto la presidente Chiasai, un impegno significativo per 39 milioni di euro, che ritengo sia l'unica soluzione percorribile per risolvere un problema annoso a tutto il centro Italia. Oggi si attua a ciò che l'amministrazione di Pieve-Santo Stefano aveva immaginato sin dal suo insediamento nel 2019, ha detto poi il sindaco di Pieve Marcelli. La ricerca di una presa di coscienza degli enti superiori per ridare dignità alla vecchia arteria ex-Tiberina 3bis come unica alternativa alla E45.